Tratti di pista ciclabile al buio, strettoie pericolose, buche e sbarramenti per cantieri infiniti, mobilità difficile e pericolosa nella zona di Chiesa Nuova, per pedoni, ciclisti e soprattutto disabili in carrozzina. A denunciare le criticità è Umberto Materassi, che da tempo si batte per i diritti dei diversamente abili. Si parte dalla pista ciclabile di via Federigo Melis, lato palazzetto sportivo di Maliseti, una infrastruttura ampia e utile che arriva dritta o quasi al cimitero di Chiesa Nuova. Peccato che un lungo tratto resti la sera completamente al buio. Il motivo? Assenza di illuminazione. I quattro pali della luce presenti, spiega Materassi, la sera non si accendono e in ogni caso i fari risultano puntati sul lato opposto alla sede stradale. Negli anni passati già ci sono stati due morti. Ci vorrebbe poco a mettere dei lampioni oppure girare quelli che ci sono. Specialmente le biciclette, che quasi tutte sono senza lumi, senza fari. E ce li troviamo vicino alle macchine, insomma, rischiando di arrotarli o di farsi male. Ma anche più in giù i problemi non mancano. Superato il tragitto in totale oscurità e a pochi passi dalle auto che sfrecciano, si arriva nelle vicinanze del cimitero. Imboccare il sottopasso che corre sotto a viale Namdin diventa cosa complicata, a causa di un vero e proprio sbarramento che interrompe il tragitto. Da due anni i cartelli avvisano i passanti del pericolo di caduta di Tegole dal tetto della vicina struttura fatiscente e a ciclisti, pedoni e carrozzine non resta che invadere la carreggiata con tutti i rischi che ne conseguono o seguire il percorso suggerito non certo agevole. La strada è stretta, le macchine vanno veloci e c'è un bel pericolo. Perché vedo che molte biciclette, molti pedoni vengono contromano e specialmente la notte non è tanto... Poi ci sono le strisce che sono quasi invisibili. Qui ci vorrebbe dei rallentatori perché le macchine che arrivano dal palazzetto vengono a alta velocità. E poi anche i marciapiedi rifatti anche dall'altra parte che per salirci sopra una carrozzina è abbastanza complicato. Se uno rispetta la segnalettica dovrebbe attraversare la strada salire sul marciapiede che è già complicato per lo scalino poi davanti al cimitero di attraversare la strada insomma non è che sia tanto semplice. Oltre ad una serie di buche sulla parte retrostante e la cappella del cimitero di Chiesa Nuova da segnalare anche la pericolosa strozzatura che viene a crearsi in via Montalese direzione Maliseti Centro. Qui la pista ciclabile si restringe fino quasi a scomparire.